Il Revolution Ride è un evento sportivo multidisciplinare al quale partecipano team di tre persone. Dopo il successo della prima tappa estiva svoltasi a Bergamo, siamo pronti per la seconda e ultima tappa della stagione che si svolgerà a Nagotolbore. L'appuntamento è sabato 22 e domenica 23 settembre nel magnifico territorio del Garda Trentino, patria degli sport outdoor. La gara si divide su due giorni e i partecipanti potranno scegliere tra due percorsi con lunghezze distinte, questo per dare a tutti i professionisti e amatori la possibilità di partecipare. Un'avventura alla scoperta del territorio, adatta quindi a tutti gli appassionati di sport outdoor. Le discipline, tutte da svolgere in orientamento, sono mountain bike, try running, kayak, discesa incordata e alcune prove speciali. Oltre ai numerosi premi tecnici dedicati ai vincitori di ogni tappa, in palio per chi avrà partecipato sia al ride di Bergamo che a quello di Nago Torbole, due meravigliosi viaggi in Nuova Zelanda. Mettetevi in gioco, iscrivetevi su www.revolutionride.com Mettetevi in gioco, iscrivetevi su www.revolutionride.com